Questo è il concetto della trasmissione del sapere, che è quello che è mancato in questi anni, che sono stati anni di un'economia frenetica, dove comunque il lavoro c'era, però c'è stato questo taglio della continuità. Così riscoprendo quello che può fare la scuola, se è unita con il mondo del lavoro c'è la trasmissione diretta del sapere e questi ragazzi possono apprendere non solo la parte teorica che è importantissima e che serve, ma anche coniugare con la praticità. Quindi credo che questa sia un'iniziativa assolutamente centrata. Dobbiamo portare le famiglie in questi giorni a visitare questo evento, perché è quello che fa capire cosa può essere per il futuro dei loro figli.